Presidente, dopo il successo riscosso dai primi convegni, la Fondazione ha deciso di riproporre nuovi incontri anche molto interessanti. Sì, l'ambito ambientale, l'ambiente è uno dei settori statutariamente previsto dalla nostra Fondazione, quindi siamo sempre stati impegnati in questo ambito. Mi piace sottolineare che comunque nell'ultimo triennio, 21, 22, 23, i fondi a disposizione sono stati addirittura triplicati e uno dei nostri obiettivi è quello appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi anche la nostra cittadinanza di riferimento sul tema ambientale. L'ambiente è un tema certamente anche di moda in questo momento, ma è un tema assolutamente fondamentale perché il futuro è l'ambiente, l'ambiente è certamente il futuro, il futuro è nelle nostre mani e è anche figlio delle azioni che mettiamo in campo. La Fondazione ha pensato di realizzare questo ciclo di conferenze su terra e clima già a partire dall'ultimo scorcio del 2022. Questo percorso di conferenze su questo tema proseguirà anche nel corso del 2023. Stiamo già predisponendo un nutrito cartellone in questo senso e partiamo con il priore di Fonte Avellana, padre Gianni Giacomelli, che ci parlerà del rapporto tra uomo e natura. Penso che questo sia un momento molto importante perché ci fa vedere anche da un punto di vista spirituale questo tema. È un tema che poi verrà sviluppato anche nelle conferenze che si snoderanno nel corso dei prossimi mesi, cercando di focalizzare altri ambiti che sono quello dell'alimentazione, che sono quello dei mari, degli oceani, che sono quelli delle foreste e dell'economia. Il tema ambientale è un tema che deve certamente riguardare tutti noi, coinvolgerci, perché appunto dipende dalle nostre azioni il cambiamento che vorremmo portare in questo ambito. Dove e a che ora si terrà questo primo incontro? Questo primo incontro del 2023 si tiene qui presso la sala di rappresentanza della Fondazione, venerdì 3 febbraio alle ore 17.